Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Nancy, tanti auguri a te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 45 Tanti auguri, 45 anni Ciao ragazze, eccoci qua, nuovo video, regali di compleanno di Nancy che ce l'avete tanto tanto chiesto Prima di tutto vi ringraziamo tanto, io anche per tutti gli auguri che avete fatto a Nancy, proprio veramente l'avete travolta di auguri È stato bellissimo, perché su Instagram avete fatto un sacco di auguri per il mio compleanno, è stato bellissimo Lei è una persona molto timida, molto riservata, questa cosa di mettersi anche lei su internet è stata una cosa nata proprio per gioco Cioè io per gioco ho condiviso il suo profilo Instagram, è veramente tutto fatto così, senza che lei lo volesse, anche contro voglia Poi alla fine siete veramente aumentate tantissime, adesso la seguite con affetto su Instagram, ha veramente avuto centinaia di commenti Mandate un sacco di messaggi gentili, commenti bellissimi Insomma lei non se l'aspetta, sta cosa gli fa sempre strano, ho ricevuto 500 commenti, insomma veramente è bello Poi mi avete richiesto, facci il video dei tuoi regali di compleanno Quindi sono curiosa, posso dire proprio che ti vogliono bene, vogliono condividere con te questo momento Voglio condividere le cose belle come può essere il compleanno Esatto Niente, mi ha fatto un sacco piacere, vi ringrazio un sacco per tutti gli auguri che avete dato No, non abbiamo fatto, veramente, grazie Dolcissimi, tanti complimenti, grazie Grazie Io sto qua solo come spettatrice Sono molto triste perché non ho ricevuto nulla Ma anche un mese scorso l'hai fatto il compleanno Non so, ma lo sai che io voglio anche io regali Dai, forse qualcuno te l'ho presto Lo so che non è vero Allora, iniziamo dal Il mio quando lo puoi vedere, dopo? Dopo, prima l'acqua Pandora Allora, sapete che io ho una passione per questi bracciali Pandora, infatti già ce n'ho uno finito, eccolo qua Pure io Pure lei Il mio però è più bello, è più fine perché ci sono più gioielli Comunque, se le ragazze vogliono, possiamo fare anche un video su tutti i nostri sham Pandora Perché veramente non abbiamo tantissimi, magari poi vi faccio le riprese e ve li faccio vedere uno ad uno Per noi hanno anche un significato Cioè ognuno, perché noi così abbiamo fatto Cioè si fa ancora su una maledizione Quando ti compri il bracciale e poi li devi comprare Spendi un sacco di soldi Però non te ne accorgi, che magari ne compri uno, vai a una parte, una città Sì, compri uno, vai in un momento Il simbolo di un momento, di una città Molti sono regalati Sì, molti regalati Alla fine questi qua noi li abbiamo riempiti Diciamo che sono molto simili i nostri bracciali A me è tutto pieno Io no, ho ancora un po' di spazio Io l'ho appena comprato un altro Eccolo qua che è vuoto E me lo devo riempire Aiuto Sono tutta contenta di riempirmi un altro Pandora E quindi adesso invece cosa hai avuto? Allora, appunto Ecco qua il mio regalo Com'è bello Allora un bracciale Ma di puricino Cioè tu l'hai avuto regalato proprio così Con questo ciondo Secondo me questo qua è proprio bello da tenerlo così Sì, infatti ho pensato proprio per ora di tenerlo così Perché comunque già ho questo qua pieno Poi lo riempirai però secondo me tu Ora ho detto così Mi sono premissata che lo voglio tenere così semplice È anche molto bello Perché comunque c'ho questo No, sapete che questo comunque è molto scomodo Durante il giorno Quando si è al lavoro Comunque devi studiare Perché è grosso ed è pesante È pesante Quindi magari questo qua Invece questo ogni volta che lo metto Leggerissimo Poi devo dire che fa una bella figura Anche solo uno Perché è uno sciamma molto molto carino Voi? Voglio dire una cosa Nel mio compleanno comunque è piaciuto di più Proprio come l'ho trascorso I festeggiamenti che ci sono stati Perché sono stata fuori il weekend Poi quando sono tornata Un weekend d'amore Un weekend d'amore Poi sono stata Sono tornata a casa Ho avuto una bellissima sorpresa Il sushi Ti l'ha fatto La persona più speciale del mondo Se lo dice da sola Ti ho preparato una bella sorpresa Ci ho preparato un sacco di sushi Buonissimo E mi ha amato Una torta Una torta buonissima Che forse vi faremo il video Una torta proprio speciale Senza zucchero Però veramente buona Una c'è una torta che ho fatto io Senza zucchero Senza zucchero Mamma quello è troppo buona Questa torta Quindi ora la devo costringere A fare questo video Perché poi è una ricetta segreta Che sta solo lei E quindi dobbiamo fare il video Tutto questo poi su Instagram Abbiamo posto un sacco di foto E infatti tu hai detto Su Instagram Hai detto Ragazzi volete il video della torta Magari fateci sapere anche qua Se lo volete Andate a vedere la foto Sul profilo Instagram di Nenzi E se volete il video Ve lo faremo sul nostro secondo canale Quello di Cuscina Perfetto E ora E ora Pazzo forte Torniamo con i regali Il regalo della mia sorellina Senza nulla toglierà Tutti gli altri regali Però dite la verità Questo è troppo bello Questo regalo La diamo a male Diamo a male Già si è capito che cos'è la stagione Quella là Fatto un super regalo Il costume Ragazzi Questo costume è bellissimo Guardate com'è bello Sopra è fucsia Però è un fucsia molto delicato E sotto è tipo un arancio corallo Mi piace un sacco Perché questo con l'abbronzatura Fa un bellissimo effetto Risalta l'abbronzatura Poi voglio dire una cosa Questi colori qua Sono molto brillanti Non so se si capisce il tessuto È super brillantinoso Che col sole è bellissimo È un tessuto proprio bello E poi la dobbiamo dire il trucchetto Fallo vedere dietro Dai non abbiamo segreti Sì È super push up ragazzi Ma ha un effetto Troppo bello Questo io l'ho visto Nei si diventa Pamela Sì Comunque se vi piace L'effetto push up Questo è proprio bello È bello poi perché ha fascia Se togliete questo filino Diventa proprio una fascia Che sostiene bene il seno Guardate A differenza delle altre fasce Che molto spesso Schiacciano il seno E quindi Non vanno molto bene Questo fa un bel effetto Ragazzi Ve lo consiglio È andato anche per chi Non è maggiorata È vero È bellino E io me lo volevo comprare Pure io in verità Cioè in verità Me lo volevo comprare per me Poi ho detto Vabbè lo compro a lei No perché io ho detto Ogni volta che vedevo i manifesti Non so se l'avete visto Il manifesto con la modella Che indossa proprio questo costume Dicevo Wow lo vorrei anch'io Però ti devo dire una verità Quando io ti ho comprato sta cosa Quando ti hai regalato il costume Tu hai detto Ah mi hai regalato quel costume Che volevo che vedevo Sui manifesti E ti dicevo sempre Ma non mi ricordavo proprio Che tu mi dicevi Tremenda guarda Mi ascolta proprio Non mi ricordavo Ma com'è bella la modella Il costume È bello È bello Io ho comprato Vola E faccio andare a mia amma Mamma hai visto Quella ha detto così Mi ha muo Che coincidenza Io invece convinta Convinta che tu ti ricordavi Non mi ricordavo E mo te l'ho detto E vabbè però Per farti capire Comunque non sapendo Ti ho comprato una cosa Che ti piaceva Vabbè se mi conosci troppo bene Perciò Fai vedere anche il pezzo di sotto C'era anche il tanga Però dato che Nancy è così È molto suora Suora di claudura Diciamo Non l'ho preso il tanga Perché già sapevo Che non se lo sarebbe mai visto Magari lo cambiamo Quindi è molto bello E l'ho preso Lo slip Però è carino Ma comunque è molto piccolo È piccolo È sempre la stessa fantasia Fuxi Non fa effetto mutandone della nonna No no È comunque piccolino Non te l'avrei comprato Eccola qui Guardate È troppo carino Poi guarda Stanghetta dorata Comunque ragazze Questo costume È beautiful È veramente È amazing È fantastico Poi fa vedere Non finisce qua il mio regalo L'ho fatto solo Tutto un completo Per andare a mare Ora devo andare solo in vacanza Eccolo qua Questo qua È una specie di pareo È un pareo minigonna Esatto Guardate com'è bello Molto bello Che praticamente Tu puoi accorciare Puoi allungare Come vuoi tu E questo è il colore preferito Di Nancy Questo qua È un viola pruna Ci va anche molto bene Da qua sopra Perché richiama questo colore qua Quindi ho fatto Tutto un piccolo È bello Si hanno da qui in vita È di là Stoffa tipo Molto lucida Sì Tipo raso Bellissima Bella Insomma E poi finisce qui Finisce qui Altra piccola cosa Anche l'asciugamano Anche l'asciugamanina È troppo carina Questa è bella Un asciugamano borsetta Banana Si Banana Praticamente si apre E diventa l'asciugamano Com'è bella Guarda Bellissima Lungissima Più lunga di bella Bella Continuiamo Io ho avuto regalato Questi sono miei Non è vero Mi vorrissima Ma io vorrei vado a comprare Che mi piacciono troppo Massa queste occhiali Ragazzi queste occhiali Perché io avevo due occhiali da sole Da due anni rotti Ho detto Voglio gli occhiali da sole Per fare da sole Qualcuno mi ha contentato Ecco qua il regalo Ecco qua Tattara Tattara Yeee Troppo belli ragazze Sono gli occhiali da sole Ray-Ban Marrone sfumato E dorato Con le stanchette dorate Come mi stanno secondo voi Io sono molto indecisa Però mi piacevano No ma secondo me Non ti stanno bene No esalmente Ho dovuto regalarle a tua sorella Troppo bella Comunque stai Allora secondo me A parte gli scritti Stai bene Che non sono tanto grandi Ti sta bene Perché questo dorato Tu sei bruna Ti sta bene E anche la forma Mi piace Come ti sta Sì marrone e dorato Con la bronzatura Magari risalteranno Comunque a me le vado a comprare Pure io No ma tu comprate Li neri però Non mi scoccià No io le voglio così Tale e quelle miei Ma vedo Comunque sei carina Questa occhiale E brava a Nenzo E quanti bei regali Andiamo avanti Ho avuto regalati Ancora Questo è sempre mio ragazze Un bellissimo rolonzo Questo si vuole scrivignare Tutti i miei regali Ma come sono belli Questi regali Ma tu sei Esattiva Perché ho avuto Tutti questi regali belli Sono troppo buona Basta Allora Questo regalo Stupendo Ragazze Sto crepando di filia Questo è un rolonzo bellissimo Della Ops Non lo conoscevo Però mi piace un sacco È modello nuovo Modello nuovo Infatti devo dire la verità Anche io L'avevo visto già Nella vetrina Perché Visto che sono gli ultimi Modelli Di Ops Sono molto molto carini Mi piace perché È un azzurro tiffany E col Con il quadrante oro rosa Che poco carino E tanti brillantini È molto fine Poi è adatto a te Perché è sottile Io poi penso che Questo orologio Io me lo vado a comprare Pure io sono sicura Perché mi piace Che è leggero Sì Ed è Ha il Il cinturino sottile Quindi d'estate Non fa sudare Tipo questo è pesante Fa sudare d'estate Invece questo qua È molto È leggero È piccolino Poi questo Questo materiale di gomma Non fa sudare Quindi Poi secondo me Lo puoi portare Sia di giorno Che di sera Sì perché è un azzurro Che va bene Magari col jeans E col fattolo uccino È color siffani È molto raccontinato Guarda È proprio adatto a te Non te lo togliere più Ti sta bene Mi piace Cioè di tantissimi colori Infatti sto decidendo Che colore Andarmelo a comprare Solo per questo Ancora me lo sono comprata Non ti prendere questa qua Verde menta No 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 Perché è mio No Lo prenderò di un altro colore Mamma mia Altro regalo Ancora Ma basta Ma qualcosa Troppo carino Questo è un zaino Fucsia Fucsia viola rosa Eh non è proprio fucsia È proprio il colore Che piace a me Cioè se ti sa Questo colore Vabbè Io ci ho preso Guardate Il colore tipo del pareo Che ti ho regalato io Questo colore Te lo petti per andare a mare Ma ecco Wow fai proprio tutto Costume Metti questo Questo è bello a mare Ti mancano solo le scarpe Allora Ho messo questo Il portacave di Parigi Ah questo è quello che ho campato a Parigi Quindi non te l'hanno regalato Assieme allo zaino Ce l'hai messo tu Allora guai Questo è bello per andare a mare Comunque sai Per il weekend Molto bello Per mettere qualcosa dentro Bello Mi piace Comodo Mi piace Ci vuole Poi lo zainetto è buono Perché non fa male alla schiena Se devi portare cose pesanti Può usarlo per la palestra E non te lo darò mai Ma no Non sto crepando di un video È troppo bello Perché io ho detto Questo è sempre nero Dei brutti colori Invece questo è proprio bello Non sapete la cosa brutta qual è È che mo lei l'ha avuto i regalati E invece mo devo pagare E mi devo andare a comprare Tutte le cose che lei ha Perché io così sono Come una bimba Non resisto Occhiali E orologio Poi vi farò vedere Poi faremo un video show Però guarda Mi stanno bene Tu cosa pensi No Stanno bene Però secondo mi stanno bene A te o verdi o neri Non questi Io penso che Io mo mi vado a comprare Sicuro Gli occhiali E l'orologio Vabbè di altri colori Che sennò lei mi uccide E veramente Mi devo litigare E poi faccio un video Vi faccio un video shopping A caso mai E vi farò vedere Cosa ho scelto Perché io sicuramente Le comprerò Mi dispiace È finito questi regali Ma basta Ma ti regalo stupendo Yeee Che cos'è? Non si legge? Ma Nike The top of the pop Top of the top Scarpette Nike E vai Come sono belle Ma no Come sono belline Guardate come sono carine Queste ancora non le avevo visto Sono troppo belle Sono proprio Tutte in bianche Che belle Che semplicità Proprio adatte a te Mi piacciono perché sono bianche Hanno un po' di rialzo Eh belle Guardate come sono belle Ma queste le puoi mettere Per fare ginnastica? Sì penso di sì No però io le userò più per camminare Diciamo quando devo camminare molto Oppure quando faccio una passeggiata Quotidianamente Se vuoi stare sportiva Da sotto al jeans Da sotto al jeans Mi piace un sacco Sono carine Bravo Sono un po' alte Le già provate sono comode? Sì sono comodissime Infatti io volevo prendere Tipo le adidas Quelle là nuove Le converse Solo che sono basse Invece queste Mi ci sono di più Sono un po' di rialzo Perché tu sei nana netta No perché solo perché non mi trovo La mia è un gigante Quando è bella Comunque vabbè Sono tanto tanto contenta Di questi tecari Che ho avuto veramente Te lo dico Ma non sono Poi sono mie Però sarò anche più contenta Se tu me li prestassi Qualcuno Qualche volta Non credo Perché l'orologio Unque personale Poi me lo potresti Scorcare Gli occhiali Me li potresti allargare Perché comunque C'è la testa grande Ragazzi fateci sapere Nei commenti Se pure voi Con le vostre Avete delle sorelle Così diciamo Come dire Anciarose Qual è il termine italiano Guardate Questo anello Gli ho prestato ora È il mio È vero Questo anello Me l'ha prestato lei Però praticamente Gli lo devo dare Certo Appena spegniamo la telecamera Lo devo dare Anche questo è di pandora È vero Comunque me lo devo comprare Anche questo qua E quindi Ragazzi Noi vi mandiamo Un bacione grande Speriamo tanto Che questo video Vi sia lasciato Ancora tanti auguri a te Grazie 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 per tutti gli auguri Alla stava principessina Speriamo che vi abbia divertito Questo video Sì sì Fateci sapere Quale regalo avete preferito Di più E vi mandiamo Un bacio grandissimo Ciao ragazze Sì Ma lo puoi regalare No ma se ancora Non lo puoi regalare No È andata Ma perché questo è un simbolo Significato Aspetta Se me lo regali Ti do 50 euro No Quanto vuoi Io questo l'ho pagato 100 euro Ma non lo vai È una bugiardona Tornato al suo posto Wow Non ti hai registrato niente Un'altra volta Non ti hai registrato niente Funziona Ma no Io non me lo faccio Tutti i regali Sto scherzando Non ti hai registrato niente Dobbiamo rifare Non è vero Ciao Ciao